Da giornalista e critico cinematografico ad attore è la storia del piacentino enzolatronico nel cast della finestra di Alice. Non sono un attore, sono un giornalista cinematografico, mi occupo appunto di cinema e sono andato sul set a vedere i primi Chuck, il regista mi ha visto, abbiamo scambiato quattro chiacchiere e poi mi ha detto senti ci sarebbe una parte, la vuoi fare, perché no? Può essere divertente, molti critici cinematografici, molti giornalisti si prestano al cinema, perché no? E non posso purtroppo rivelare che cosa ho fatto perché è un ruolo un po' particolare, quindi se lo raccontassi rischierei di far collare appunto l'impianto narrativo del film. E quindi mi sono ritrovato a mio malgrado in questo film, una bella esperienza, nel cinema c'era entrato diciamo così di lato perché ho scritto delle sceneggiature, l'ultima vabbè è solo di passaggio, ho lavorato con Paolo Briguglia e Maria Paiato, quindi alla fine mi sono ritrovato anche in questo lavoro prodotto appunto da Leopardi di Carlo Sarti.